La prima volta di Massimo Oddo contro il Pescara. Basta già questo per dipingere la gara di domenica sera al Curi come speciale e lo sarà proprio per i due allenatori, perché Massimo Oddo ritrova la squadra della sua città, la squadra che lo ha fatto conoscere e apprezzare il grande pubblico come allenatore, lui con un pedigree già di livello da calciatore, perché dall'altra parte si ritroverà contro un ex compagno di squadra, un amico, una persona che dal punto di vista lavorativo è stato il suo collaboratore tecnico finché le strade professionali non si sono divise. e Luciano Zauri ha intrapreso quella dell'allenatore guidando la primavera biancazzurra lo scorso anno ed ora la prima squadra. Lo stesso percorso e si spera lo stesso risultato finale che fu intrapreso da Massimo Oddo quando da tecnico della primavera del Delfino fu chiamato a sostituire Marco Baroni nel maggio 2015 ad una giornata dalla fine di quel campionato. Oddo, che dopo la finale non vinta di Bologna, ha firmato l'ultima promozione in A del Pescara, 12 mesi dopo, nella finale play-off, vinta col Trapani. Il campionato di massima serie è stato duro e la storia tra Oddo e il Pescara si è interrotta con l'esonero del febbraio 2017, dopo 80 panchine tra campionato, play-off e Coppa Italia. A Udine in Serie A subentrando a Del Neri due stagioni fa e a Crotone lo scorso anno in B subentrando a Stroppa, le cose non sono andate bene con altrettanti esoneri, Tudor e il ritorno di Stroppa rispettivamente al suo posto. Ed ora Oddo a Perugia cerca di ripercorrere il cammino della prima stagione pescarese, ma si trova ad affrontare la prima impassa stagionale dopo un bel inizio. Le due sconfitte consecutive con Cittadella e Pordenone, il botte risposta con il DS Goretti, che ha tonato o la Serie A o sarà falimento, affermazione rimandata al mittente dallo stesso Oddo, per il quale la gara del Curi, oltre che speciale, sarà dunque anche fondamentale. Zauri, d'altro canto, il suo primo momento delicato lo ha già affrontato e superato e a Perugia va con tutte le intenzioni di prolungare il momento positivo. Per farlo l'allenatore di Pescina riproporrà il 4-3-2-1 con Bettel e Scognamilio centrali, i rientri tra i titolari di Masciangelo e Busellato e con Castano sconfermato in regia al posto di Palmiero. Sul fronte Perugia ci sono degli ex anche in rosa, Cristian Capone, due anni in biancazzurro, ma ha brillato solo nei primi mesi con Zeman, poi male, complici gli infortuni, il centrocampista Marco Carraro, il difensore Norbert Ghiomber. E' quel Federico Melchiorri che è stato e resta una soluzione per rinforzare l'attacco del Pescara e magari se ne riparlerà a gennaio. Anche Oddo potrebbe optare per il 4-3-2-1, in dubbio proprio Capone per un attacco influenzale. In caso di Forfè saranno Fernandes e Buonaiuto ad agire alle spalle di Iemmello, certe le assenze di Quan e Angella. Tra campionato e Coppa sono 23 i precedenti, giocati al Curi, con solo tre vittorie del Pescara, recenti le ultime due e guarda caso con Massimo Oddo in panchina. 1-2 nel primo turno di play-off 2015 e un incredibile 0-4 in campionato nel gennaio 2016. Sette i pareggi e ben 13 le sconfitte, l'ultima proprio 12 mesi fa con le retti degli ex Verre e Ghiomber e la prima marcatura tra i pro di Melegoni. Grazie a tutti.